Buongiorno, sono Massimo Sarasini, sono un parrucchiere, titolare del Salone Effetto Max. Devi sapere che quando vai a tagliare i capelli ci sono due cose molto importanti. La prima è sicuramente piacersi, la seconda è quella di riuscire a gestire tranquillamente i tuoi capelli a casa senza l'aiuto né della spazzola né del phon. Per far questo hai bisogno di un professionista che sia in grado di dimostrarti, non solo a parole, ma con fatti, quello che tu oggi stai ascoltando. E chi può dare giudizio meglio di te? Accontentando anche le ragazze più giovani che studiano e non hanno la possibilità e il tempo necessario per gestire i propri capelli, ma nello stesso tempo non vogliono rinunciare ad un look di tendenza. Solo utilizzando un metodo di taglio che coniga precisione di esecuzione e volumi ben bilanciati si possono ottenere a casa gli stessi risultati senza stravolgere il tuo look. Ricordati che non è la piega che fa il taglio, ma è sempre il taglio che fa la piega. Grazie e alla prossima da Effetto Max. Grazie a tutti.